Come ci si sente ad aver fondato e a dirigere un'azienda senza sapere N. Decidere Quando qualcuno vi viene assunto Ecco la domanda scottante che abbiamo posto a Tim Mois dell'operatore telefonico tedesco Sipgate Azienda di DS Siedorf Con 120 dipendenti che adotta il peer recruiting per assumerli Fantasticamente Dice Mois L'idea è presentarmi a un gruppo di lavoro e dirgli ei Non lo conoscete Ma ecco il vostro nuovo collega Mi sembra assurda Non esiste un classico ufficio risorse umane I dipendenti assumono i dipendenti Dice Mois Sipgate non ha un settore risorse umane tipico Due dipendenti THU e Carina Coordinano tutte le questioni relative al personale Ma non hanno virtualmente influenza in fatto di assunzioni o licenziamenti Il team decide liberamente i requisiti del proprio personale E in questa azienda tedesca sono i Dipendenti a decidere Chi deve essere assunto e chi licenziato i ritratti dei dipendenti Sipgate Oliver T. J. Aden Sipgate I gruppi di lavoro decidono da soli se hanno bisogno di rinforzi Quindi Scrivono semplicemente un annuncio di lavoro e lo pubblicano Un membro del gruppo viene assegnato alla Recruitment Task Force e insieme al team del personale Studia ogni giorno le candidature I candidati vengono sempre informati del motivo preciso del rifiuto Mois dice che è semplicemente corretto In quanto dia alle persone la possibilità di imparare e di migliorare Sipgate non mai stata citata in giudizio per questo I team realizzano da soli i colloqui preliminari La dirigenza non assolutamente coinvolta I candidati incontrano tre o quattro futuri potenziali colleghi e uno tra Carina o THU L'idea è quella di scoprire veramente se il candidato è in armonia con il gruppo Poi si discute brevemente se invitare il candidato a fare un passo avanti e a lavorare su un Progetto di prova Se il progetto va bene O durante il progetto stesso I nuovi colleghi sigleranno un contratto con l'azienda e faranno un tirocinio durante il quale Riceveranno due serie di riscontri da parte del gruppo Dopo uno e dopo quattro mesi C'è un tranello Ecco il tranello Chiunque si prende la responsabilità per l'assunzione ha anche la responsabilità del licenziamento Dovere dire a qualcuno che non viene assunto dopo il tirocinio chiaramente una cosa spiacevole Dice Moise Ma c'è sempre un buon motivo se vieni licenziato E se hai seguito qualcuno Vorrai dirglielo personalmente Non puoi fare da tramite e poi mandare qualcun altro a dire che non sei adatto Nonostante il processo di valutazione Ci sono stati alcuni esempi di impiegati assunti a tempo indeterminato che non lavoravano bene con Il gruppo In casi del genere Il gruppo si occupa del problema e cerca insieme una soluzione Se il tentativo non va a buon fine Informa il collega che deve iniziare a cercare un nuovo impiego Le persone si preparano per i licenziamenti con l'aiuto del gruppo del personale di Sipgate Che può partecipare all'atto stesso Se richiesto Queste situazioni fanno crescere Il commento di Moise In questa azienda tedesca sono i dipendenti a decidere chi deve essere assunto e chi Licenziato altro su MSN Mamma di disabile licenziata dall'IKEA 29 novembre 2017 Rai Play Sponsorizzato Offerta di Natale Pacchetto Surf Espro i 5 Più tastiera a soli 979 Acquista maggiore maggiore